A settembre partirò con l'organizzazione della macchina amministrativa, è chiaro che ho anche un'esigenza di rafforzare, è un servizio che io devo dare alla cittadinanza e chi viene sa benissimo che c'è questa esigenza. Davide Rossi sì, Davide Rossi no. Per il sindaco di Fano Massimo Serri la scelta del suo portavoce è di quelle da far venire un mal di testa così. Anche perché di nomi da scegliere ce n'è soltanto uno, Davide Rossi appunto, politico d'esperienza, già cofondatore della tua Fano dell'ex Stefano Guzzi di centrodestra, poi vicepresidente di Matteo Ricci in provincia nel centrosinistra e l'anno scorso cofondatore della lista civica Noi Città di nuovo a sinistra, espressione dell'attuale sindaco. La scelta diventa ardua perché non piace il nome di Davide Rossi agli alleati PD e SEL. Serri però rivendica il suo ruolo di capo della maggioranza che dunque gode di insindacabile autonomia, come ha dichiarato lui stesso, getta insomma acqua sul fuoco delle polemiche e rimanda la scelta a settembre. Vengo proprio ora dall'incontro con il presidente del Consiglio Renzi che ha detto una cosa giustissima, impariamo a voler bene al nostro paese, impariamo a voler bene a cominciare dalle nostre città guardando al futuro, basta con queste scorribande, io voglio solo lavorare per il bene della città, confrontandomi coinvolgendo anche la gente. Mi sono stancato delle chiacchiere che non mi presterò più a polemiche di questo tipo perché, ripeto, la gente non vuole questo, vuole confrontarsi sulle questioni, ripeto, problematiche ce ne sono tante, lo ha ricordato anche Renzi oggi nel suo intervento, ma a maggior ragione quando ci sono momenti difficili non bisogna piangerci dietro. Le polemiche non servono, ma dobbiamo confrontarci cercando di raggiungere gli obiettivi e fare degli sforzi e, ripeto, una città come la nostra ha tanti elementi, ha un potenziale che non ha saputo sfruttare anche negli ultimi anni e su questo dobbiamo recuperare, perché questa è la vera sfida. Poi ci misuriamo sui contenuti.